Questa sera, per serata pasta estate, proporremo ai nostri ospiti dei paccheri con fiori di zucca, gamberetti e limone. Questa sera, per la volta che vi in ambito peso, per essere la copia, di beneficio di zucca. Quando piacciono i nostri, nel correcto opposto, non è l'틀 я, ma invece, la Dimentica di un po' della scuola, ho fatto, senzamacchiere un po' давайте in Grazie a tutti. Prepariamo la scorzetta di limone grattugiata, giusto un po', se il nostro piatto viene troppo amare. Aggiungiamo un mestolo di acqua di pasta, adesso stiamo mantenendo il nostro piatto. Questo è il piatto, pacche di limone grattugiata, zucca, gamberetti e limone.